Quello che sta per accadere invece anche nella situazione bolognese è un cataclisma, non solo perché Cofferati era già al 39% a giugno e secondo me se Mannheimer tornasse a Bologna a fare il suo sondaggio adesso sarebbe al 32%. La sinistra ha perso, ha già perso queste elezioni, in nessuna maniera, con nessuna buona volontà è possibile determinare una situazione nella quale coloro che hanno appoggiato Cofferati si ripresentano e vincono. Ma noi vogliamo forse che la destra vinca? Assolutamente no. Noi dobbiamo ragionare in una maniera nuova che vuole dire che i termini stessi di destrazione non sono di quelli che ritengono che la destra e la sinistra sono due parole che non bisogna più usare, credo che ci sia chi sta dalla parte del lavoro e chi sta dalla parte del profitto e della guerra. Ma ciò detto, la traduzione rappresentativa, elettoral rappresentativa non rende più il problema. Forse il problema noi potremmo renderlo in un'altra maniera, riprendere la questione rete cittadina per fare, per lanciare un'iniziativa di progettazione della città. Avviare cioè una serie di blog tematici, ciascuno dei quali è dedicato ad una questione, la questione del traffico, la questione dell'urbanistica, la questione delle case per gli studenti, la questione dell'accoglienza e della migrazione. Ciascuna di queste questioni, nei suoi aspetti analitici attuali, quanto paga uno studente per dormire in una brandina, in una cantina, eccetera. Ma diciamo dei blog che non sono tanto dedicati all'analisi, alla denuncia della situazione, ma che sono soprattutto dedicati alla elaborazione di proposte. Abbiamo due anni per fare un lavoro di questo genere. Abbiamo due anni durante i quali noi smettiamo di parlare di quello che fa la giunta esistente. Semplicemente consideriamo quella questione conclusa e cominciamo ad occuparci del governo della città da qui a due anni. Naturalmente su una strada di questo genere non esistono più alleanze politiche, esistono unicamente alleanze di contenuto, alleanze di progetto. Si discute sui progetti con tutti coloro che hanno voglia di farlo, senza per l'appunto reintrodurre su questo piano delle distinzioni di tipo politico tradizionale. Ecco, io non credo che questo sia un modo per fare i conti con il cataclisma che sta arrivando. È piuttosto un modo per cominciare a ragionare come se ne esce. Un'altra cosa della quale io sono convinto è che bisogna creare, nel disastro presente della scuola e dell'università, bisogna creare dei luoghi di ricerche, di apprendimento e di didattica su questioni nodali come ad esempio la questione del lavoro precario dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista della vita dei lavoratori. Quali sono le forme di organizzazioni che il lavoro precario può elaborare? Quali sono le forme di sciopero che il lavoro precario può elaborare? Quali sono le forme di sabotaggio che il lavoro precario può elaborare? Quali sono le forme di lotta vincente sul piano dell'appropriazione di reddito? Come si fa male al capitale a partire dalle condizioni del lavoro precario? Guardate, la non violenza è una cosa alla quale ciascuno di noi può aderire in intimo corde nella propria individuale intimità, ma quando si scatena la disperazione e la violenza lo sanno anche i monaci birmani che la violenza non occorre sceglierla per subirla. Ebbene, noi dobbiamo cominciare a porre il problema della disperazione, il problema della violenza subita che è inevitabilmente anche violenza agita, in termini sociali. Dobbiamo porre l'avviso scoperto in una iniziativa di studio, di ricerca, di proposta e di organizzazione che usa la rete come proprio ambito privilegiato. Vi ringrazio.